Musica Oggi presentiamo la collezione di Casa Dei del prossimo inverno 2015-2016 Per parlare di ispirazioni della collezione ho guardato indietro per guardare avanti Farsi ispirare da quelle che sono state le epoche che sono passate per guardare a una donna che vive il suo presente Quindi siamo partiti dagli anni 60, dalle geometrie, dalle cappe che venivano fatte dai tagli geometrici negli anni 60 Per arrivare ai primi anni 70 Siamo passati da questi tagli geometrici su queste scarpe estremamente sofisticate e eleganti Oppure attraverso il nostro tacco iconico che è il blade, una lama d'acciaio vera inserita nel tacco Per arrivare fino ai nostri boots in pelliccia, un visone pilato, un visone effetto pantalone a zampa d'elefante anni 70 Per arrivare poi agli stivali, materiale in latex, in vernice, un po' di ispirazione anni fine 60 che ho chiamato Carnaby Street Per arrivare a delle costruzioni che sono dei city biker per una donna che vuole essere funzionale, vuole portare qualcosa di iconico, unico e che sia anche portabile Casa Dei è un marchio che rappresenta il Made in Italy sin dal 1958 Il mio padre e mia madre fondarono la prima azienda artigianale italiana Già nel 1966 esportava all'estero Quindi un marchio di quelli che hanno rappresentato e rappresentano il Made in Italy italiano Deve saper fare la scarpa italiana riconosciuta nel mondo per essere una scarpa unica Grazie a tutti! Grazie a tutti!